Gian Piero, questa conferenza stampa stamattina per raccontare quello che è il tuo viaggio di quest'anno? Sì, praticamente quest'anno siamo alla quinta edizione. Quinta edizione, per il terzo anno consecutivo veniamo a Crudone. Quest'anno abbiamo portato un amico da Pordenone, Andrea, che anche lui ha il suo terzo anno. E niente, quindi quest'anno siamo molto soddisfatti perché il nostro progetto sociale sta acquisendo sempre più una sua identità e abbiamo consolidato sicuramente delle situazioni che depongono a favore di questa iniziativa. Vogliamo ricordare qual è l'iniziativa e soprattutto il tuo progetto? La Route 21 è il primo giro d'Italia effettuato da ragazzi con sindrome di Down a Staffetta. È un viaggio, quest'anno sarà di 13.000 km, i giorni e 37 le tappe da toccare. L'iniziativa non ha nessuno scopo di sensibilizzazione. La nostra iniziativa serve semplicemente a comunicare la normalità dei nostri ragazzi, così come ho detto in conferenza stampa, perché della disabilità ne parlano già abbastanza gli altri più bravi di noi. Questo tuo tour dopo Crotone, qual è la prossima tappa? Dopo Crotone andremo a Nardò, siamo ospiti dell'amministrazione comunale di Nardò, di un'associazione sul posto di Impavi di Destini. E poi da lì proseguiremo verso Polignano a Mare, dove Andrea terminerà la sua frazione. Rimangono ancora qualche giorno, perché l'arrivo sarà il 2 di ottobre a Roma, passeremo di nuovo da Amatrice, andremo in Sardegna, insomma, piano piano sveleremo anche poi tutto il resto del viaggio. Quanti sono i partecipanti a questo tour? 8, quest'anno sono 8 ragazzi e considerando che siamo partiti con 3 ragazzi 5 anni fa e sempre un solo motociclista a portarli in giro, direi che questo è praticamente il record in assoluto di presenza alla Route 21. Quest'anno i numeri sono aumentati un po' in tutto, perché abbiamo a sostenerci più di 14 amministrazioni comunali, 22 concessionari ufficiali dell'Harley Davidson, 30 chapter ufficiali dell'Harley Davidson, e veramente un sacco di persone che quotidianamente ci danno il loro sostegno.